Cari amici abruzzesi, italiani e mondiali, sono il piccolo variano Pasetta Garibaldi del Parco Nazionale d'Abruzzo, l'Asia Molise. Nel salutarvi con cordialità in questo periodo critico, dominato dal coronavirus, da amante della vita, da montanaro, da sportivo, da socio del CAI, da alpino e difensore della natura, per il bene di tutti mi rivolgo a coloro che non rispettano la volontà degli scienziati e dei nostri governanti di restare a casa e fare bravi. Nei panni di Garibaldi, che è in me, per la seconda volta dico benisco, resta a casa Barrea e non a Cabrena, e ringrazio di vero cuore tutti coloro che stanno sacrificando la propria vita per salvare quella degli altri. Viva l'Italia!